Bella ragazzi in questo nuovo video in fortuna innanzitutto passiamo sperando se c'è il copyright poi nell'evento c'è il copyright poi mi incazzo con youtube e truterò tengo il pop corn con me sapete perché? non fai me, doori sarà te mangiarmi per le pippe che farà e già 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 che così mi aiuto elimina i giocatori e i miei giocatori e i miei con così i due salti ma perchè non ho i miei compagni vabbè mi sa che sono il singolo hanno già fatto una kill ah non mi sono fermati i brodi saliamo sul palazzo che è cercato da qui la tordea del victoriford ci facciamo mamma mia se mi arriva se mi arriva una simbola sparata tiro uno di quei porconi mi 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 com'è possibile adesso da solo. Ora andiamo, non andiamo. Ecco. Ok, ne scoppiamo. Ecco. Non riempire perché? Ma tua madre? Ecco, non parli. Non riempire perché il mio bar, non i pezzi. Ma non mi piace, non è piaciuta, ma non mi piace, non è piaciuta. Ecco poi, non mi piace, ma non mi piace, ma non mi piace. Quindi, ammiglia, e non mi piace, ma non mi piace. Sì messo qui non c'è il treno allora un cappiano un cappiano con ci sarò ci sarò tu dove avere preso arma figlio di puttana ma va non è vero che è il nostro partito via va da nida ai pav eh ah ok guarda lo vedo perchè avevo gli sguardo c'è mai tanto l'ottore di film non è questa qua non ci sono non 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 Pomp Brr Pomp E niente a 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